Io e Fabio siamo portavoce in Sesto Municipio. Il nostro municipio è storicamente uno dei municipi più abbandonati di Roma. C'è un degrado che è veramente impressionante. Noi chiediamo che le periferie vengano ascoltate. Non vengano creati cittadini di classe A e di classe B, ma anche chi vive nelle periferie abbia il diritto di vivere una vita dignitosa. Allagamenti, cementificazione, topi, scuole, buche. Abbiamo veramente un municipio, il Sesto, Torbella Monaca, Via Casilina, Ponte di Nona, devastato da questo sistema. Basta, andatevene tutti a casa.